Nelle gare delle 14.30 il Catanzaro continua la marcia alla Serie B, il poker del Menti consolida la leadership della squadra di Vivarini che ormai ha più di un piede nella cadetteria. Manca solo la matematica ai giallorossi. Gli Emelo tocca alle 20 reti stagionali mettendo a segno in 10 minuti due gol a inizio partita. La Juve Stabia non ne ha e capitola ancora al minuto 30 dopo la rete di Biasci. Il poker è del solito Van de Putt che chiude la contesa. Scacca Barozzi a pochi minuti dalla fine chiude per le Vespe il festival del gol. Il Crotone non va oltre la 0-0 all'uscita contro la Turris e non continua la sua corsa alla vetta. Mentre il Messina dei Miracoli della City, ritmo promozione per i polio-tritani, sbanca l'altina 2-0. Segnano prima Marino poi nella ripresa Trasciani. Davide Trevese ha saporato a lungo il quarto successo di fila al Rocchi. Il Picerno si salva solo al minuto 94 con il calcio di rigore trasformato dall'ex Avellino Ceccarelli. I laziali erano passati in vantaggio grazie a Polidori al minuto 63. Pari a patta anche nel derby tra Gelbison e Giuliano. In gol Poziello per i Tigrotti di Mister di Napoli nella prima frazione. E il solito De Sena per i Cilentani di Esposito a 10 minuti dalla fine delle ostilità.